questo è il mio trattamento super rilassante di fgm04 allora i pantaloncini che sono ideali anche quando avete poco tempo tipo adesso che sto per andare a cena ma comunque non voglio rinunciare al mio trattamento di fgm e a sgonfiare le gambe perché quando c'è caldo sapete che a prescindere dal fatto che io sia più o meno in vacanza comunque le gambe si gonfiano con questi avete la soluzione trovate quelli ice che vanno a combattere la ritenzione idrica trovate questi salini che vanno proprio a drenare ea combattere quella che è la cellulite e poi ci sono quelli slim che sono effetto caldo che però io naturalmente preferisco fare d'inverno d'estate amo tantissimo questi perché sono molto 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 freschi per quanto riguarda la promo invece vi voglio lasciare una prova una prova c'è geneva che mi distrae una promo bellissima perché c'è la black summer che è un po come un anticipo di black friday ve ne parlo allora ci sono degli sconti veramente super come vi dicevo è un po come un anticipo di black friday con il codice cari ok avrete sempre il 10 per cento di sconto anche quando queste storie non sono visibili e perché vi dico sempre di scrivervi alla newsletter perché adesso ve lo dico io ma se voi fu mi foste iscritti lo sapreste è arrivato un nuovissimo completo che è proprio un'anticipazione di quella che sarà la collezione autunno inverno di fgm 04 per quanto riguarda l'avviamento quindi io vi metto il link andate a dare un'occhiata e approfittate gli sconti per fare scorta perché comunque anche quando sarà inverno ci dobbiamo sempre prendere cura delle nostre gambe vi mando un bacino e ci sentiamo dopo